Non è piaciuta al governo italiano la decisione di Jens Stoltenberg di nominare lo spagnolo Javier Colomina nuovo rappresentante speciale per i rapporti con i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Già rappresentante dell'Alleanza per il Caucaso e l'Asia Centrale, Colomina il vice assistente del segretario generale per gli affari politici e la politica di sicurezza. Dopo la nomina, il governo italiano ha espresso sorpresa e disappunto in una lettera del rappresentante permanente dell'Italia alla Nato, l'ambasciatore Marco Peronacci, recapitata proprio a Stoltenberg. Cerchiamo anche qua però di ricostruire esattamente come sono andate le cose. Al vertice di Washington, 75 anni dalla Nato, era presente il Presidente del Consiglio Meloni e ha sottolineato come da tempo questo governo continua a fare, quanto il tema del Mediterraneo, quanto il tema del Nord Africa, quanto il tema del continente africano sia un tema fondamentale non soltanto per l'Italia, non soltanto per l'Europa ma ovviamente anche per l'intera alleanza. A breve, a fine ottobre, a fine novembre, ci sarà l'insediamento del nuovo Presidente Nato, non sarà più Stoltenberg ma sarà Rutte, Rutte che peraltro ha un ottimo rapporto, questo risaputo anche con il Presidente del Consiglio Meloni, auspichiamo e speriamo che ovviamente possa esserci un cambiamento e magari ci possa essere anche un delegato italiano che affronti questa tematica. Ciò detto, per noi è importante mettere sul tavolo la questione africana e la questione ovviamente del Mediterraneo. Dopodiché il nome è se italiano tanto meglio, l'importante è che ci sia un premio di quella che era la versione Meloni. La scelta di Stoltenberg è comunque da considerarsi ad interim e oltre a non essere stata ancora formalizzata, potrebbe decadere quando il suo successore, l'olandese Mark Rutte, si insederà alla guida della Nato il prossimo primo ottobre. Visto che il Ministro della Difesa italiano si è molto lamentato di questa scelta del segretario generale di un incarico sul Mediterraneo a uno spagnolo anziché a uno italiano, segnalo comunque che è una scelta che dovrà poi essere confermata dai nuovi equilibri Nato e dal nuovo segretario generale, ex primo ministro olandese Rutte. Ma al netto di tutto questo, la Nato è meno sensibile alla politica di quello che si dice nel dibattito anche italiano. Al tavolo della Nato contano divisioni, investimenti, disponibilità di uomini, risorse, know-how, tecnologia. Su questo secondo me l'Italia deve fare di più. Nella lettera del governo italiano si sottolina che per essere efficace la politica della Nato verso il sud necessita di un rinnovato approccio, non di una ridenominazione. È partita ieri sera da Augusta in direzione di Licata la nave Cisterna, Ticino, della Marina Militare Italiana. Trasporta 1200 metri cubi di acqua e permetterà di mitigare l'emergenza idrica nell'area di Gela e dell'Agrigentino. Il suo arrivo è previsto per le 15 circa. L'unità navale è stata individuata nelle scorse settimane, d'intesa con la Protezione Civile Nazionale, dal coordinatore della cabina di regia per l'emergenza idrica e capo della Protezione Civile Siciliana Salvo Cocina, su indirizzo del presidente della regione Renato Schifani. I dettagli dell'operazione sono stati definiti nel corso di un incontro che si è tenuto nella base navale di Augusta tra Protezione Civile Regionale, Ati di Agrigento, Ufficio Circondariale Marittimo di Licata, Capitaneria di Pozzallo, alla presenza del contramiraglio Alberto Tarabotto della IV Divisione Navale della Marina Militare. Ieri sera, nella caserma Giuseppe Cangelosi di Palermo, alla presenza del comandante interregionale dell'Italia sud-occendentale, generale di corpo d'armata Antonino Maggiore, delle massime autorità istituzionali locali e di una rappresentanza del reparto siciliano della Guardia di Finanza, si è tenuta la cerimonia di insediamento del generale di divisione Roberto Manna al comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza, avvicinandosi al generale di divisione Cosimo di Gesù, che assumerà l'incarico di comandante dell'Accademia Guardia di Finanza di Bergamo. Nella scelta il comando regionale, dopo quasi due anni di lavoro intenso ed impegnativo, ma anche esaltante e ricco di soddisfazioni, il generale di Gesù ha ringraziato i finanzieri siciliani per l'impegno e l'equilibrio con cui hanno lavorato a servizio dei cittadini e delle imprese oneste, per assicurare il rispetto delle regole e contrastare le frodi in danno del sistema economico e dei consumatori. Il generale di Gesù, altresì, ha espresso la sua riconoscenza alle autorità religiose, civili e militari presenti per rapporto di proficuo collaborazioni e le sinergie sviluppate ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica. Il nuovo comandante regionale Sicilia ha rivolto parole di stima verso le superiori gerecchie del corpo per la fiducia accordata agli, evidenziando di voler mettere a disposizione dell'istituzione tutte le proprie energie per contribuire al benessere e alla crescita di un'area territoriale delicata e nevralgica come quella siciliana. Le nostre feste in questo periodo non possono che guardare all'imminente inizio dell'anno santo. Il 29 dicembre, dopo che il Papa avrà aperto la Porta Santa a Roma il 24, inizieremo anche nella nostra diocesi con la celebrazione l'anno giubilare. E il centro di tutto sarà proprio la Cattedrale di Catania. Certo, ci saranno altri santuari. Nella Cattedrale lo squigno più prezioso è quello che contiene le reliquie della nostra Santa Martire. È una preziosità che non parla semplicemente di una ricchezza materiale e storica, ma parla di una ricchezza di fede, della ricchezza della sua testimonianza. Il Papa ci ha invitato a riscoprire la preghiera in preparazione all'anno santo. E il motto di questo anno per la festa della traslazione del 17 agosto sarà Sant'Agata, insegnaci a pregare Dio come hai fatto tu. Ci prepariamo a celebrare l'898esimo anniversario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Quindi ricordiamo che ormai sono quasi 900 anni che la nostra Chiesa custodisce le reliquie della nostra amatissima Patrona. Siamo i custodi delle reliquie di Sant'Agata. Questa è la nostra vocazione particolare di catanesi cristiani. Camminiamo anche verso il giubileo del 2025, che nella prossima notte di Natale si aprirà a Roma e che ci coinvolgerà tutti in una riflessione soprattutto sulla speranza, alla quale ci stiamo preparando con la esperienza di misericordia e di amore di Dio. La seconda, quella del novecentesimo, sarà esperienza di incontro con un segno particolare della misericordia del Signore, che sono le reliquie di Sant'Agata che noi custodiamo. Gli applausi del pubblico ci hanno ripagato della grande fatica di questi giorni, anzi di queste notti. L'indisposizione dell'attore Salvo Piro chiaramente ci ha messo in difficoltà. Poi il teatro fa, come sempre, un miracolo. E tutto si allinea e tutto funziona nel migliore dei modi come meglio non potrebbe funzionare. E questa serata è divenuta una serata splendida, che certamente si aggiungerà ai ricordi di chi ha eseguito e di chi ha ascoltato, e di chi ha ascoltato anche gli effetti, quelli veri della natura, le rane che gracidavano alle nostre spalle. Poeta fui, e cantai di quel giusto figlio d'Anchise, che venne di Troia, poi che il superbo Ion fu combusto. Uno spettacolo bellissimo, emozionante. Il parco fluviale dell'Alcantara ha sicuramente fatto la sua parte. eravamo veramente immersi in questo contesto e la sensazione più bella è stata come se il vento fosse sincronizzato con lo spettacolo, con i suoni e con le scenografie. È stato sicuramente un bel esempio di promozione delle gole dell'Alcantara, del parco fluviale. È l'esempio di quello che proviamo a fare come governo e dimostrare come governo. Cioè che la valorizzazione dei luoghi passa anche da iniziative di questo tipo. Complimenti a tutti perché è stato veramente un bel momento. Caron di Maglio, con occhi di fragia, loro accennando tutte le raccoglie. Le previsioni meteo in Sicilia, sabato 27 luglio di Globus Television. Grazie a tutti.